E' successo tutto in pochi secondi. Canonica ricreazione all'edificio scolastico di Gubbio all'interno di una classe dell'istituto. Un bambino di 9 anni intento a mangiare un tarallo sente di colpo ostruirsi la trachea proprio a causa del mancato deglutimento dello snack avvertendo subito un inizio di cianosi. Una maestra assiste alla scena e restando sempre accanto al bambino vede repentinamente venire in aiuto un collega che, rammentando in un anno secondo un corso sul primo soccorso fatto anni prima, esegue una manovra rapida, decisa e fortunatamente efficace sull'area addominale comportando l'espulsione del pezzo di cibo e un grande sospiro di sollievo per una situazione che poteva assumere contorni davvero complessi. Il maestro in questione è Simone Zagagni, conosciuto anche per la sua attività di giornalista e scrittore che dopo un primo momento di volontario anonimato è uscito allo scoperto proprio per anteporre la valenza del gesto rispetto alla persona che lo compie, conseguentemente all'importanza della formazione in situazioni emergenziali. In quei 40 metri che mi separavano dalla mia classe a dove ero il bambino, non so se per l'adrenalina comunque mi è intornata in mente perfettamente la manovra che avevo imparato tre anni prima in un corso sul primo soccorso. Era una cosa che pensavo di aver dimenticato invece è come se avessi aperto un cassetto della memoria. Quindi ho cercato di fare quello che avevo appreso e è andata bene, dobbiamo dire, perché l'avevo provato ovviamente su un manichino, però capisci, tanto per fare una metafora calcistica, farla su un manichino è come tirare un rigore in allenamento. Farla su un bambino che sta rantolando, il termine è forte, ma è così, è come tirare un rigore al 93. Quando mi hanno chiesto di raccontare la storia l'ho raccontata, ma ho chiesto esclusivamente e il mio desiderio è stato salito di non fare il mio nome perché non volevo che passasse prima la persona rispetto all'evento, al fatto. Il fatto volevo farlo passare come importante perché tutti i miei colleghi, ma tutti il personale docente, il personale scolastico, quindi dal segretario al preside, ai bidelli, a tutti, secondo me devono essere formati e preparati perché di questi casi ne capita uno ogni 10.000, però quella volta che capita bisogna che ci siano persone preparate perché in quel caso una formazione di base può salvare una vita e cambiare la vita di una famiglia, ma penso di una scuola. Tanti gli apprezzamenti via social, nonché una nota scritta dal sindaco stirati che ha posto in primo piano proprio l'aspetto della formazione di docenti e personale scolastico in tema di sicurezza per chiunque, come successa Simone, si ritrovi a dover affrontare tali situazioni per cui serve prontezza e sangue freddo, ma anche, se non soprattutto, un know-how appropriato per sapersi muovere correttamente in un contesto di primo soccorso. Speriamo appunto che con la fine della pandemia si torni a fare questi corsi in presenza, corsi sulla didattica, sulle metodologie sono importanti, però io dare la precedenza a questi corsi sulla formazione di primo soccorso, il defibrillatore, queste cose che veramente possono salvare la vita perché un congiuntivo potremmo sbagliarlo e non succede niente. Un caso così ha una valenza ben più importante e spero che questo mio gesto possa sensibilizzare i miei colleghi, ma non solo i miei colleghi, ma tutti coloro che, ripeto, lavorano sulla scuola, di capire l'importanza di questa preparazione e quindi che questa cosa possa convincere molti colleghi che a volte sono scettici sull'utilità di questi corsi che invece veramente servono. Quindi sono 4-6 ore in fondo, non è che ci vuole tanto. Si perdono due e mezza giornata, ma è meglio perdere una mezza giornata che una vita.